Se non piove, pedalare lungo gli itinerari del capoliberi bike park è davvero divertente. I pendii che circondano la cima del Monte Calamita, che supera di pochi 400 metri di quota, sono percorsi da ogni intreccio di stradine e sentieri che permettono di sbizzarrirsi e personalizzare a proprio piacimento le tracce che il parco propone. Nelle belle giornate, a seconda di dove ci si trova, la vista può spaziare quasi a 360 gradi. Da est si ammira la costa della Toscana fino all'Argentale e a seguire le isole dell'arcipelago toscano del Giglio di Monte Cristo e Pianosa, fino ad arrivare ad ovest alla costa orientale della Corsica. Gli itinerari partono più o meno tutti dal bellissimo borgo medievale di Capoliberi, che sorge arroccato sulle pendici del Calamita, a quasi 200 metri di quota. Dal paese, pedalando verso est o verso ovest, si scende verso le spiagge, mentre verso sud si punta il parco e la cima della montagna. L'isola d'Elba è un luogo ideale da visitare in bicicletta, però esclusivamente fuori dal periodo di alta stagione. Ancora nella prima metà di settembre, le spiagge sono molto affollate e le strette stradine nizolane sono spesso intasati da automobili, che rendono difficile e poco piacevole percorrerle pedalando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oltre al Capoliberi Bike Park esiste un'altra zona dove si può andare a pedalare senza rischiare di trovarsi intrappolati tra le auto. Nella propagine a nord-est dell'isola, che punta verso Piombino, basta lasciarsi alle spalle Porto Azzurro e dirigersi verso nord per trovarsi in un territorio alquanto salvaggio e poco antropizzato. L'itinerario da noi percorso ci porta a toccare tre borghi molto belli. Il primo che raggiungiamo sotto una pioggia battente è Rio Marina, dove fino al secolo scorso regnava fiorente l'industria del ferro. Dal Porto, il minerale estratto dalle ricche miniere circostanti partiva verso la terraferro. questa importante attività dell'isola ha segnato molto il territorio. Le spiagge nere dei dintorni ne sono una dimostrazione. Lasciata Rio Marina, non senza aver prima assaggiato alcune prelibatezze e una caratteristica osteria del Porto, una bella strada lungo la costa ci porta a cavo. Questo piccolo borgo sul mare è il più settentrionale dell'Elba e seduto al tavolino di un bar si coglie la sensazione di essere quasi in avamposto di confine. A questo punto, dopo aver sbirciato capovita, punta estrema dell'isola, giriamo la bicicletta e seguiamo una strada che punta decisamente verso l'interno. L'ambiente è sempre più selvaggio, siamo immersi in bellissimi boschi ed ogni tanto a tre rame si scorge l'intenso blu del mare. Dopo alcuni chilometri compare in mezzo al pendio il paese di Rio nell'Elba. Questo antico borgo risale addirittura all'età del bronzo e molte tracce raccontano il suo passato. Anche qui inoltre esisteva un importante centro per l'estrazione del ferro e alcune foto storiche esposte lungo le antiche vie del paese lo ritraggono con le mure completamente nere per la vicinanza delle miniere. Lasciato anche questo borgo, con una ripidissima salita arriviamo in vista del Volterraio. Le rovine di questa fortezza eretta dagli Etruschi si trovano in cima ad una roccia a quasi 400 metri di quota e dominano questa parte dell'isola. È sicuramente la struttura difensiva più antica dell'Elba. A girata la rocca si scende verso il golfo di Portoferraio. La discesa entusiasmante e riguadagnato il livello del mare si finisce per arrivare in mezzo alle vigne diiersi ben l'elba. Grazie a tutti Grazie a tutti